Quando vedo la gente che è presente, che praticamente copre tanti angoli della Romania e anche dell'Italia e quindi questo vuol dire che ci sono buone opportunità per che questo progetto diventi sempre sempre migliore e naturalmente che noi possiamo riuscire a sviluppare una politica culturale almeno a livello regionale e una politica vicente.